Quest'anno la neve è arrivata prima di Natale sul Terminilo, la stazione sciistica nel comune di Rieti, ma per le chiusure anti-covid la stagione turistica invernale è compromessa. Gli impianti sciistici non hanno ancora aperto, da domani zona rossa ed oggi le ultime discese libere con sci, slittini e snowboard. Noi attualmente non leggiamo slittini e ciaspole e non sappiamo tuttora se da domani possiamo rimanere aperti o chiusi. I commercianti comprendono le restrizioni, ma la loro economia è in crisi nonostante quest'estate nei fine settimana molti turisti abbiano riscoperto il Terminilo. 15 giorni di chiusura totale insomma non è semplicissimo, perché anche noi non sappiamo come comportarci. Se c'è gente, non c'è gente, come operatori non è facilissimo. Il covid ha aggravato una crisi economica che da tempo blocca il rilancio turistico della località montana, un tempo riferimento di VIP e Romani. Durante le festività, sono 15 giorni, in genere si otteneva metà quasi del fatturato di tutto l'inverno. Poiché è tutto chiuso, la sofferenza non solo si nota, ma è molto profonda. Nella frazione di Pian de Valli, ai piedi del Terminilo, da dove partono escursionisti e sciatori, la parrocchia di San Francesco Patrono d'Italia rimane un luogo di ascolto. Abbiamo cercato di essere sempre presenti, accoglienti, seguendo le regole, ma con un cuore grande, un'apertura grande, per poter dare a tutti un segno di speranza concreto. Nell'area reatina del Terminilo non ci sono positivi al coronavirus. Mentre calano i casi nella provincia, l'ASL si prepara la campagna di vaccinazione anti-covid. Il 28 dicembre, nell'ASL di Rieti, verranno vaccinati i primi operatori, mentre all'inizio di gennaio verranno vaccinati la prima fascia di popolazione, che è il personale presente nell'ASL di Rieti e presso l'RSA, le strutture socioassistenziali. Grazie a tutti.